L'importanza di questo nastro è fondamentale, oggi lo possiamo dire con assoluta certezza, nel senso che dopo 5 giorni da quell'incontro il nastro che venne fatto ascoltare Davila Samantino all'allora Presidente del Consiglio Berlusconi finì in prima pagina su Il Giornale e da lì iniziò un martellamento mediatico contro i verci dei DS. Oggi possiamo dire che con tutta probabilità quella campagna mediatica nata da un illecito come hanno dimostrato oggi i giudici del primo grado condizionò l'esito delle elezioni del 2006 vinte per un soffio da Romano Prode. Però anche su questa sentenza che lo ricordiamo è una sentenza di primo grado pende la prescrizione che arriverà nel giro di qualche mese e quindi si tratta di una sentenza simbolica quasi perché non diventerà definitiva? Con tutta probabilità no, nel senso che i giudici si sono presi 90 giorni di tempo per depositare le motivazioni e da quel momento gli avvocati potranno impugnare in appello tenendo presente che a settembre su questo caso caldrà la prescrizione. Una sentenza simbolica è importante perché dimostra un fatto e nello stesso tempo come spiegato anche in sentenza la parte civile Fassino ha la possibilità comunque di rivalersi in sede civile per il danno che gli è stato provocato da questo avvolto affare. Un anno a Silvio Berlusconi, due anni e tre mesi al fratello e 80 mila euro da risarcire a Fassino. L'avvocato di Berlusconi Longo parla di condanna sorprendente perché dice che non c'erano e non ci sono le prove. Evidentemente i giudici hanno stabilito che le prove ci sono. Le prove si sono formate nell'inchiesta e sono state ripetute in dibattimento soprattutto dal testimone chiave di questa vicenda vale a dire da colui che ha offerto il nastro a Paolo Berlusconi vale a dire il facendiere Fabrizio Favata. È stato lui che ha portato l'allora numero uno da questa società di intercettazione, la RCS, Raffaelli a Paolo Berlusconi che poi tutti e tre sono stati ricevuti dall'allora Presidente del Consiglio nella sua residenza. Le prove del fatto che quel nastro sia stato consagliato ascoltare a Silvio Berlusconi le ha ripetute e Favata in dibattimento e soprattutto Raffaelli e Favata, come oggi Paolo Berlusconi, sono stati condannati per questa vicenda. Quindi è anche sorprendente che ci sia questo tipo di atteggiamento da parte della difesa. A breve sono attese altre due sentenze su Silvio Berlusconi, innanzitutto quella del processo Rubi. Sì, ci sono due sentenze, una su Rubi che è attesa entro la fine del mese e che riguarda le accuse di concussione e di prostituzione minorile per il Cavaliere. Mentre la frode fiscale riguarda il processo d'appello sui diritti TV Mediacet, dove in primo grado Silvio Berlusconi è stato condannato a 4 anni di castere e a 5 anni di interdizione del pubblico ufficio. Questa direi che è la vicenda che probabilmente nel più breve tempo possibile verrà definita e non si intravede neanche la possibilità che venga prescritta perché i termini si cadono nel 2014. Grazie.